Oggi siamo di fronte alla prefettura di Chieti e con la nostra organizzazione sindacale siamo di fronte a tutte le prefetture in Italia per chiedere che di fronte alle proposte del ministro Salvini di sfratti e sgomberi senza soluzioni alternative si anteponga l'interesse delle persone nel disagio economico e abitativo che vengono costrette per necessità a vivere in delle occupazioni o in delle situazioni di illegalità. Siamo qui, abbiamo incontrato il capo di gabinetto della prefettura che ci ha rassicurato sul fatto che verranno ascoltate le nostre richieste e quindi anche le nostre proposte ovvero il blocco degli sfratti per morosità incolpevole e soprattutto l'attivazione di un tavolo permanente tra prefetto, comune e associazioni degli inquilini per far sì che si trovino delle soluzioni agli sfratti agli sgomberi che si faranno da qui in avanti nella nostra provincia. Molti sono i casi che sono passati nei nostri sportelli e sul territorio, casi di persone che hanno perso il lavoro o non ce l'hanno avuto o non hanno perso la capacità di accedere a un reddito tale da potersi permettere di pagare un affitto o di pagare le rate del mutuo. Quindi persone che di fronte al soccombere nei confronti di una crisi economica che li ha travolti si ritrovano anche senza poi un welfare regionale adeguato perché sulla casa non si investe da decenni, l'edilizia residenziale pubblica è degradata e gli alloggi sono andati diminuendo avendo dato la possibilità di riscattarli agli inquilini che vi abitavano e quindi oggi c'è un patrimonio pubblico immobiliare in dismissione senza alloggi popolari e questo ha fatto sì che con l'esplodere della crisi economica chi si trovasse in difficoltà rimanesse scoperto da una copertura di welfare pubblico e regionale.